I miei 5 giugno, oggi è una giornata che è piena di contrattempi, non me ne va una dritta, ho cercato un po' di conforto, dice fammi vedere un po' il calcio mercato, andate a cercare qualche notizia di calcio mercato, se perlomeno dalla mia Roma arriva qualche notizia confortante in questa giornata. Quindi vado a fare le mie ricerche e che cosa leggo? Leggo che la notizia ufficiosa ma quasi ufficiale è riportata un po' da tutti i mezzi di informazione e anche ben informati, tra cui calciomercato.com ma anche ormai tutti i siti romanisti, che Daniele De Rossi intende tenere con sé Maras Kumbulla, alias l'uomo che ci ha fatto uscire, riuscire a rinpegare, faccio uscire dalla Coppa Italia con la Cremonese che stava retrocedendo, forse anche quasi già retrocesse. Maras Kumbulla, l'uomo che quest'anno ha praticamente determinato la retrocessione di una squadra come il Sassuolo che stava vincendo qui a Genova, sapete che io vivo a Genova, contro una squadra che tra l'altro non aveva più niente da chiedere, è riuscito nell'impresa di siglare un autogol, quelli della mia generazione avrebbero detto alla Comunardo Nicolai, il difensore del Cagliari che è passata la storia, che tra l'altro era anche un buon giocatore, non è affatto scatto, ma è passata la storia per i suoi autogol d'autore, perché sembravano quasi dei gol da centravanti, però non ha potuto sbagliare. Se voi vi andate facilmente su YouTube a ritrovare l'autogol che segna Kumbulla a Marassi determinando la sconfitta e condannando quasi al cento per cento il Sassuolo alla Serie B su questo raso terra, questo cross da destra, è tutto solo, può tranquillamente mandare in angolo addirittura anche in fallo laterale, non ha nessuno intorno a sé, decide di suicidarsi portando con sé tutta la sua squadra. Allora, indipendentemente da queste topiche che io ricordo qui a Genova è stato preso per il culo per due giorni Kumbulla, dovunque andavo per questo autogol che, ripeto, potete facilmente trovare su YouTube, ma io dico, a parte il fatto che Kumbulla è una sega mostruosa, e bisogna anche dirlo a chiare lettere, un giocatore che non può giocare in Serie A, forse neanche in Serie B, scarso, scarso a livello tecnico, forse anche più di Christensen, che è una persona che non sa stoppare la palla, cioè Christensen, tu dà, diciamo, il centrale gli passa la palla, gli mette la palla sul piede, e Christensen non si fa stoppare la palla, cioè lui mette il piede, la palla gli imbalza sul piede, per forza d'inerzia va avanti e quindi lui segue il corso della palla, ma non è capace di fermare il pallone, fateci credo quando lo rivedrete. Ma Kumbulla è ancora peggio, cioè Kumbulla è scordinato, Kumbulla è una specie di burattino, di enorme burattino di legno che quando colpisce la palla, se ci fate caso, se ascoltate, si sente proprio stock, come quando giocato a biliardo, no, con la famosa stecca, che adesso è passata di moda, ci abbiamo passato la vita giocando a biliardo, quelli della mia generazione, pomeriggi interi, no, stock, ecco, quel rumore che fa la stecca di legno è il rumore che fa il piede di Kumbulla quando colpisce il pallone, ma io dico, ma siete tutti impazziti, ma tra l'altro si legge che la scelta di tenere Kumbulla potrebbe addirittura determinare anche la scelta di non tenere Diego Llorente, di non riprendere in sostanza Diego Llorente, che secondo me è un buon giocatore, ha sicuramente fatto il suo dovere nei limiti delle sue possibilità, perché è un ragazzo che spesso vediamo che sbagli anche gli appoggi, però è uno che fisicamente ci sta, che si impegna, è un serio professionista, ci può stare benissimo, magari non come titolare, come primo cambio, secondo cambio ci sta benissimo, ma io ragazzi sono abbassito, perché se questo è il trend, cioè noi vediamo il Bayer Leverkusen, che sta fondando e andando su Cristiano Ronaldo, non so se voi lo sapete, magari siete stati molto impegnati lavorando eccetera, non lo sapete, ma il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ci ha appena eliminato dall'Europa League e che quindi è andato in Champions League, avendo vinto il suo scudetto in Bundesliga, che è andato in Champions League, giustamente dice cosa possiamo fare per migliorarci e quindi essere perlomeno competitivi, nessuno chiede al Bayer Leverkusen che non aveva mai vinto una maccia nella sua storia, infatti veniva chiamato in Germania Neverkusen, nessuno gli chiede di vincere la Cerma, ma vogliamo almeno essere competitivi e dare ai nostri tifosi l'orgoglio di appartenere a una formazione, di supportare una formazione che locca con grande dignità in una competizione così prestigiosa, prendiamo che sia Ronaldo anche a 40 anni, 39 quelli che sono, che comunque porta fame, perché questa la fame ce l'ha proprio nel cervello, mentalità vincente, qualità, lo abbiamo visto piangere recentemente dopo la sconfitta nella King Cup, mi pare che si chiama in Arabia Saudita con la sua squadra che mi pare che si chiama Al-Nasr, perché hanno perso i rigori, è questo qui che è uno dei grandi della storia del calcio che ha vinto qualsiasi cosa segnando migliaia di gol, che è messo a piangere, si è buttato per terra in lacrime, questo è un campione, questo è un giocatore che devi avere nel tuo spogliatoio, perché ha mentalità anche se ha una certa età, anche se magari ha avuto degli infortuni, a parte che Cristiano Ronaldo non è che mi risulta che abbia avuto tutti gravi infortuni nella sua carriera, cioè Cristiano Ronaldo certamente ha curato maniacalmente il suo corpo, la sua salute, eccetera, eccetera, ma possiamo dire tranquillamente che dal punto di vista fisico è una specie di, non dico di robot, ma quasi, è una macchina perfetta, micidiale, all'età che ha ancora cammina, quindi tu ti metti un Cristiano Ronaldo nello spogliatoio che funge anche da stimolo, da gratificazione per gli stessi compagni che si allenano con lui, perché è chiaro, no? Quindi quando noi dicevamo, predicavamo, che si poteva anche arrivare a Cristiano Ronaldo per la Roma, per fare una grande Roma, eccetera, poi alla fine, come vedete, non dicevamo una cosa completamente fuori dal mondo, perché se andrà a Bayer Leverkusen quest'anno poteva anche venire alla Roma due anni fa, un anno fa, quando era? Però questi giocatori per andarli a prendere li devi anche andare a cercare, se non li cerchi non li prendi, ma voi vi rendete conto cosa avrebbe voluto fare Cristiano Ronaldo per il merchandising della Roma, per l'immagine della Roma, per la credibilità della Roma, per l'appetibilità delle partite della Roma in ambito internazionale quando andavano in televisione, cioè, ti avrebbero seguito da tutto il mondo per vedere Cristiano Ronaldo, questa cosa non è stata capita. Io dico questo, adesso mi stai facendo perdere la pazienza, io sto aspettando, con tanta pazienza, perché leggo comunque di nomi che mi piacciono come chiesa, girano tanti nomi, oggi gira il nome di Prati, Prati del Cagliari che, se non sbaglio segno proprio alla Roma, mi pare di ricordare nella partita di Cagliari, che lui ha avuto alla spalla, è un giovane promettente, se sentono nomi Doig del Sassuolo, Hummels che ha 35 anni, però ha parametro zero, se sente qualsiasi cosa, Calimmo Endo, Jonathan David, tutto si sente. Però se noi partiamo subito col piede sbagliato, chiudendo un occhio sui limiti tecnici, di una sega stellare, è anche facile da riconoscere con tutti i suoi limiti, come Cumbulla, noi diventiamo indifendibili, non abbiamo più credibilità, cioè io vi dico questo, con grandissima onestà, con grandissima passione per questi colori, cioè io sono grado al Padre Eterno di essere tifoso della Roma, perché le emozioni che mi fa provare la Roma, vorrei dire da quando sono nato, ma insomma da quando ho l'età te capisci qualcosa, non me ne dà nessuno, però io vi dico questo, i Fritkin non vanno bene per la Roma, la Solucco non va bene per la Roma, Ghisolfi non va bene per la Roma, De Rossi non va bene per la Roma, e le seghe come Cumbulla, ce ne abbiamo tante purtroppo, nella nostra rosa non possono vestire questi colori, questi colori, questi colori, questo io lo dico con grande chiarezza, sorprendetemi, dimostratemi che state lavorando sotto traccia, che arriveranno dei nomi che nessuno si aspetta, dei botti, ma aspetto dei botti, voglio i botti, ma non uno, voglio tre, quattro, voglio giocatori giocatori di nome, di qualità, affamati, non voglio Umels al 35 anni, e non voglio manco i ragazzini, voglio giocatori maturi, pronti, che subito, via, pronti a farsi valere, 25-26 anni, senza infortuni, ambiziosi, giocatori che non devono arrivare dal Verona, come appunto Cumbulla, o da Caso, o dall'Empoli, come tra l'altro Baldanzi, voglio giocatori che devono arrivare da squadre già importanti, che vogliono fare anche un salto di qualità sotto un certo punto di vista, giocatori, ripeto, di 25-26 anni, senza infortuni, sani, pronti, motivati, i frattesi, per esempio, sarebbe andato benissimo, roba nostra, roba della nostra primavera, non parliamo poi di Scamacca, che è roba nostra, questi sono i giocatori su cui bisogna puntare, gente che vuole affermarsi, gente affamata, che ha gamba, che ha corsa, che ha piede, quindi ragazzi, veramente, io vi lo so questo, state esagerando, se la linea comincia a essere, vabbè però tutto sommato, su 24-25 giocatori, perché poi ragazzi, parliamo e ti chiamo, ma Cumbulla, ma chi cazzo glielo rifiri, ma quanto te possono dare Cumbulla? Cioè, come strategia di vendita, capisco che è fallimentare, cioè, chi cazzo te lo paga Cumbulla? Al massimo, se lo riprendono in prestito, allora uno dice, vabbè, se indovina 7-8 partite, magari, se non ho ragione, l'anno prossimo, cerco le facce, qualche milione di euro, ma è tutto questo, sulla pelle dei tifosi della Roma, Cumbulla non può giocare pallone, è molto semplice il discorso, lo dico con grandissimo rispetto per il professionista, che sarà un ragazzo bravissimo, non me ne frega un cazzo, non me ne frega, sono arrivato a un punto, non me ne frega più niente, sono stanco di queste pippe, non voglio più vedere Cristante con la maglia della Roma, non lo voglio vedere con la maglia della Nazionale, non voglio vedere più Pellegrini con la maglia della Roma, neanche con la maglia della Nazionale, che abbiamo visto tutti ieri sera, in che condizioni è questo ragazzo, che sembra sempre stanco, sembra sempre che gli fa male una cosa, che gli fa male un'altra, batte gli angoli, le punizioni, e sono sempre troppo alto, troppo corte, troppo lunghe, troppo deboli, manca sempre, per fan euro, gli mancano sempre 50 centesimi, basta con questi giocatori, dobbiamo crescere, ci stiamo facendo scavalcare, il Napoli punterà allo scudetto, con Conte, forse anche con Lukaku, ma non solo, ma è già una squadra molto più forte della nostra, come Rosa, ci sono quest'anno, purtroppo riposati, perché hanno avuto un down, dopo la cavalcata straordinaria dell'anno precedente, hanno avuto un crollo anche fisico-atletico, forse anche mentale, ma la squadra, noi prendiamo giocatore per giocatore, la Rosa del Napoli, è più forte della nostra, l'unico giocatore che uno dice, Lukaku va via, va proprio al Napoli forse, che può dire, effettivamente questo è un giocatore che giocherebbe titolare anche nel Napoli, di bala, tutto il resto, purtroppo, complessivamente, loro sono superiori, quindi con Conte in panchina, questi ritorneranno a lottare per lo scudetto come minimo, cioè il Napoli quest'anno, arriva o primo o secondo, ve lo dico subito, qual è l'andazzo, ci stanno scavalcando l'Atalanta, ci sta scavalcando, gente che fino a qualche anno fa non prendevamo neanche in considerazione come il Bologna, bisogna reagire in questo momento, prendere giocatori con le caratteristiche che ho indicato, pochi anzi, ma se comincia a parlare, teniamo con Bulla questa gente qua, ragazzi, alzo le mani, perché allora andare veramente incontro, su questa linea andate incontro, cioè voi vi potete salvare, adesso arrivano 4-5 nomi grossi, allora con Bulla diventa il 25, il 24, il 25esimo della rosa, ma io credo che ci debba essere la lucidità e la competenza di vedere se un giocatore di calcio può giocare in Serie A, se non c'è una competenza in questi termini, è normale che poi arriva Reynolds, arriva Maitran, Niles e tanti altri, tante altre meteore che sono a Vigna, Shomurodov, quanti ne abbiamo visti, ma lo stesso Solbaken, che Solbaken poi rispetto a Kumbula è oro, è oro, quindi matono tanti, adesso qualche nome mi sfugge, ma lo stesso Uisen è stata una follia, Baldanzi è un giocatore che è tutto da capire, tutto da crescere, tutto da svezzare, ci vorranno anni per capire qual è il valore di Baldanzi, se ha un valore, troppe cazzate sono state fatte, veramente la pazienza dei tifosi ormai sta per finire, vi potete salvare solo se come mi auguro ci siano delle trattative sotto traccia, ma io mi auguro che la vera trattativa sotto traccia sia proprio una cessione della società di cui non si sa niente, che sarà portata avanti in silenzio, perché sappiamo che queste trattative durano poi mesi, non è che durano settimane, e che a un certo punto arrivi l'annuncio che i fritti incendono la società, perché veramente ormai siamo stanchi, siamo veramente esausti, perché ogni anno siamo a ripetere sempre le stesse cose e il risultato finale è sempre lo stesso, sesto posto, quinto posto, settimo posto, così non si può continuare.